Puglia e decoro urbano, strade, marciapiedi, cassonetti. Cagliari è una città pulita? Dai un voto da 1 a 10. In determinati punti della città, sì, in altra situazione è abbastanza pietosa. 6, sufficiente. 4, tagliare la città sporca. Eliminare i piccioni perché comunque sono la piaga e soprattutto educare la popolazione con i cani. 8, buon senso dei cittadini che non buttino niente per terra. Justissimo.